Si riaccende la protesta nei comuni più colpiti dal terremoto del 2002, dove la regione ha pagato solo in parte il rimborso del bollo auto previsto nel periodo della sospensione. Molti cittadini aspettano ancora la restituzione del 60% della tassa automobilistica stabilita da un apposito provvedimento relativo agli anni che vanno dal 2003 al 2008. Si tratta di somme superiori anche a 1000 euro, ricevute solo da alcuni beneficiari e non da altri importi che peraltro in tempi di crisi possono alleviare i problemi economici di molte famiglie. Numerose le telefonate le raccomandate dirette agli uffici regionali competenti per conoscere i motivi dei ritardi, ma spiega un cittadino, non è arrivata nessuna risposta, sono tre anni che aspetto e non ho capito il perché di questa disparità di trattamento. Il rimborso della tassa automobilistica era previsto in forma graduale anche in base alle disponibilità finanziarie della regione. Migliaia le pratiche arrivate dai 14 centri, da tutte quelle famiglie che hanno pagato il bollo anche durante l'emergenza terremoto. C'è anche chi ha intenzione di avviare forme di protesta più incisive. Se il problema non verrà risolto, anche perché sostengono i cittadini, quando si deve pagare una tassa c'è sempre un termine ultimo. Quando si parla di rimborsi, questo non è previsto.